Dopo una breve tregua il Molise di nuovo ha le prese col maltempo, quindi molissani ha le prese con freddo e neve. Dalla scorsa notte nevica in molti centri della regione, da Campobasso fino a quelli più collinari, verso la costa. Una ventina i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole, anche se bisogna dire in molti comuni era già prevista la sospensione in occasione dell'ultimo giorno di carnevale. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine di automobilisti in panne, la viabilità è critica soprattutto nei piccoli centri. Comunque sono centinaia i mezzi a lavoro per liberare le strade e renderle percorribili. L'abbondante nevicata ha causato problemi di viabilità sin dal primo mattino diverse le segnalazioni ricevute dai tanti pendolari che si sono messi in viaggio e che hanno incontrato non poche difficoltà a raggiungere i rispettivi posti di lavoro. Siamo a Ripabottoni, questo è l'ingresso di una casa di riposo e sono in compagnia di un'operatrice socio-sanitaria. Lei non è del posto, quindi ha dovuto raggiungere la struttura e non senza difficoltà. Sì, io sono arrivata stamattina alla Termoli e ho trovato difficoltà sia dalla Bifernina fino al paese, ma anche proprio davanti alla struttura, la salita della struttura era totalmente sporca di neve e siamo preoccupati perché comunque è una casa di riposo, un'emergenza, un'ambulanza, ci sentiamo un po' trascurati. Difficoltà a raggiungere i piccoli centri del Molise anche per i fornitori di generi alimentari che hanno lamentato una pulizia non ottimale delle strade. Disagi anche per chi ha scelto di non viaggiare con la propria auto ma ha preferito raggiungere il capoluogo con i mezzi pubblici. Un autobus di linea in viaggio da Termoli in direzione Campobasso ha perso il controllo a causa dell'asfalto viscido finendo fuoristrada tanta paura per i passeggeri a bordo ma fortunatamente nessun ferito. I problemi alla circolazione hanno riguardato anche Campobasso e mattinata su Via Colle delle Api, auto a passo Duomo e diversi tir fermi. Continua a nevicare, qui siamo nella zona industriale di Campobasso. Come potete vedere alle mie spalle ci sono camion fermi che hanno lasciato il loro mezzo sul ciglio della strada e non riescono a continuare a causa del manto stradale scivoloso. A Campobasso molti cittadini che hanno lamentato il mancato passaggio di mezzi spazzaneve. Doppio incidente a causa proprio della neve in via Conte Rosso come dimostrano le foto inviate in redazione. 5 le auto coinvolte sul posto ANA 618. Nel capoluogo molisano le scuole chiuse ieri erano aperte oggi ma molti genitori hanno optato per non far andare i propri figli a scuola.